La vita è breve. Dobbiamo sfruttare ogni momento e fare solo quello che ci fa davvero sentire vivi. Ehi ragazzi, qui Danger D, sempre sul pezzo. Yo! Hashtag SuperStrafica. È vero, in quei video faccio la perfetta idiota, ma ne vale la pena. Si fanno bei soldi. Vecchi, devi riprendere in mano la tua vita. Mi manca troppo! C'è una cosa che ti voglio mostrare. È la torre TV B67. Come ai vecchi tempi. Ciao ragazzi, qui Danger D e voglio farvi conoscere una persona molto speciale. Queste due brave ragazze raggiungeranno per voi passo dopo passo... Oh santo cielo. Che c'è? È divertente. Adesso si inizia. Wow! Basta così, Hunter! Adesso torniamo giù! Ciao ragazze ragazzi! C'è? 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 Grazie a tutti.